Tutti i cristiani sono chiamati a lavorare insieme in mutua accettazione e fiducia per servire la causa della pace e della giustizia. Così oggi Papa Francesco incontrando in Vaticano i membri della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha espresso dolore e preoccupazione per la drammatica situazione in Medio Oriente, soprattutto in Iraq e in Siria. Pensando ai tanti cristiani e di molte altre minoranze in fuga dal conflitto, Papa Bergoglio ha auspicato ancora una volta una soluzione negoziata di questa immensa tragedia. Non è mancata poi occasione di esprimere soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, istituita nel 2003, e di pregare perché la comune ricerca teologica possa aiutare i cattolici e gli ortodossi a vivere in maniera sempre più profonda una fraterna amicizia. Grazie a tutti.